Ben trovati dal Tg della Mobilitano, nuova piazza verde per riqualificare l'area del Vallo Ferroviario del Pigneto. Domani alle 16.30, prima presentazione ai cittadini del progetto per la copertura del Vallo del Pigneto, uno spazio che prenderà forma grazie alla realizzazione della stazione del Pigneto, futuro nodo di scambio tra quattro ferrovie regionali e la Metro C. L'appuntamento è alle 16.30 al Teatro Vignoli della parrocchia San Leone in via Prenestina 104. Oggi dalle 11 alle 13 manifestazione a piazza Santi Apostolo organizzata dai sindacati USB e Cobas di viti di sosta nella piazza e possibili rallentamenti in via Cesare Battisti.